Peppino Impastato era un ragazzo, un ragazzo siciliano di Cinesi, una piccola città vicino a Palermo. Il padre di Peppino Impastato era legato al capomafia di Cinesi, Gaetano Badalamenti. A Peppino questo non piaceva e fin da ragazzo iniziò una campagna di denuncia contro Gaetano Badalamenti attraverso attività culturali e sociali. Fondò il gruppo Cultura e Musica, fondò Radio Out e nel 1978 si candidò alle elezioni comunali. Ovviamente questo alla famiglia dei Badalamenti non piaceva e proprio per questo divenne loro nemico, un nemico da annientare fisicamente per il suo impegno così incisivo e così capace di fare breccia nei cuori e nelle menti dei giovani siciliani. Peppino Impastato, la notte tra l'8 e 9 maggio del 1978, proprio alla vigilia delle elezioni comunali, venne trovato morto. Dissero di lui era un terrorista che morì nel tentativo di innescare un ordigno esplosivo sui binari del treno. Ma non è così. Peppino Impastato venne assassinato. E questa teoria l'hanno portata avanti la madre Felicia e il fratello Giovanni, per anni, molti anni. Finché finalmente, l'11 aprile del 2002, Gaetano Badalamenti viene condannato all'ergastolo come mandante dell'omicidio di Peppino. E la sua casa, la famosa Casa dei Cento Passi, venne confiscata e concessa all'associazione culturale del fratello Giovanni. E chi lo voleva questo aeroporto? L'Alitalia? L'Aeronautica Militare? No, nessuno lo voleva qui a Punta Raisi, l'aeroporto. E basta che guardiate sopra le vostre teste per capire perché. Perché c'è questa montagna così alta? Perché c'è il rischio di andarci a sbattere contro questa montagna. Non c'era nessuna ragione logica, tranne quella di comprare i vostri terreni a pochi pizzoli e di ripenderli a quelli dell'aeroporto, guadagnandoci sopra cento volte tanto. Non è a loro che sto parlando. Mi hanno paura a farsi vedere che mi stanno ad ascoltare. E a te ti voglio spiegare. A te, sì. Hai una bella faccia, grida, occhi vivi, intelligenti. E magari puoi pensare che costruire una strada, un ospedale, un aeroporto, possa essere una bella cosa. Una cosa che conviene a tutti. E invece devi sapere che qui si costruisce solo per rubare. Si costruisce solo per mangiarci sopra. Ma complimenti! Batti, batti pure le mani, ma è così che è andata. E ancora non vi basta. Volete costruire un'altra pista, un'altra bella colata di cemento. E altri intrallazzi da combinare con il sindaco, la regione e il padre interno. Amico, ma è il progresso che porta nuovi posti di lavoro, nuovo turismo, nuove case. E non fa bene a Cinesi tutto ciò. I siciliani, i cavernicoli devono arrestare. E chi li ha avuti questi posti di lavoro? Gli amici tuoi mafiosi? I mafiosi! Ma chi sono questi mafiosi? Dove sono? Tutti a dire la mafia qua e la mafia là. Ma cos'è sta mafia? E dov'è? E comunque io sono contrario a questa pista. E lo dissi al sindaco, è un affare sbagliato. Gioppo cemento, gioppo traffico e gioppo rumore. Andiamo, Peppino. Sarà pure contrario, don Cesare Manzella. Ma intanto gli altri si sono già vestiti a porto. Oh! Gli ACT! Qua non si mette d'accordo nessuno se non lo dico io! Dai, lo sai com'è papà? No, com'è papà? È un po' antico, ma non è cattivo. Papà è un po' antico, ma non è cattivo. Papà non è cattivo. Sei andato a scuola? Sai contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. Sai camminare e contare insieme? Sì, credo di sì. E allora su, forza, conta e cammina. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Dove stiamo andando? Tu, forza, con te cammina. 20, 14, 15, sei, sette, sette, otto, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27, 28, 29. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Lo sai ci abita qua? Dai! L'Otiozano! Parla piano! Vivi nella stessa strada Prendi il caffè nello stesso bar E alla fine ti sembrano come te Salutiamo Zio Tano I mio secui Beppino I mio secui Giuseppe Io voglio fottermene Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda Io voglio urlare che mio padre è un leccaculo Nostro padre La mia famiglia Il mio paese Mio padre Io voglio fottermi Dobbiamo, dobbiamo ribellarci Prima che sia troppo tardi Prima di abituarsi al meno facile Prima di non accorgersi più di niente Stamattina Peppino Avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo Della sua campagna elettorale Non ci sarà nessun comizio E non ci saranno altre trasmissioni Peppino non c'è più È morto Si è suicidato Sì è andata proprio così Lo dicono i carabinieri Il magistrato dice che hanno trovato un biglietto Voglio abbandonare la politica e la vita Questo sarebbe la prova del suicidio E lui per abbandonare la politica e la vita cosa fa? Va alla ferrovia Batte la testa contro un sasso Sporca di sangue tutti intorno Poi si fascia il corpo col tritolo E salta in aria sui binari Suicidio Come l'anarchico Pinelli Che vola dalle finestre della questura di Milano O come l'editore Feltrinelli Che esplode sui tralici dell'Ener Tutti suicidi Questo leggerete domani sui giornali Questo vedrete in televisione Anzi non leggerete proprio niente Perché domani Si occuperanno di una notizia molto importante Del ritrovamento a Roma Dell'onorevole Aldo Molo Ammazzato come un cane dalle brigate rosse E questa è una notizia che Fa impallidire tutto il resto, no? E quindi chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia? Ma chi se ne fotte di questo peppino impastato? Dai, voltatevi dall'altra parte Tanto si sa com'è che vanno le cose Si sa che niente può cambiare Domani ci saranno i funerali Voi non andateci Anzi adesso fate una cosa Spegnete questa radio Lasciamolo solo E diciamolo una volta per tutte Che noi siciliani, la mafia, la vogliamo E non perché ci fa paura Ma perché ci identifica Perché ci dà sicurezza Perché ci piace Noi siamo la mafia E tu peppino Sei stato solo un povero illuso Tu sei stato un ingenuo Nessuno, mischiato col niente Grazie 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 Grazie